Si allarga ancora di più in Sicilia rispetto alle politiche della primavera del 2006 il gap tra le due coalizioni che oggi supererebbe i 25 punti percentuali. Cresce quindi la delusione tra gli elettori che avvertono il pesante senso di precarietà che caratterizza da molti anni il sistema politico del paese. Riscuote molta simpatia nell'isola la scelta di Walter Veltroni di candidarsi alla guida del nuovo Partito Democratico. Veltroni può contare sulla fiducia personale del 68% degli intervistati su un consenso ampio e trasversale. Ma è una missione difficile la sua, ancora di più in Sicilia dove il centro-sinistra sembra aver perso la capacità di rappresentanza non solo dei ceti produttivi ma anche degli strati più deboli della popolazione. L'apprezzamento verso il sindaco di Roma non appare quindi sufficiente a compensare la marcata disaffezione nei confronti al governo e le divisioni interne allo schieramento di centro-sinistra. Il Partito Democratico raccoglierebbe oggi in Sicilia il 21% delle preferenze provenienti per l'11% dai lettori della Margherita, per circa il 7% dai DS penalizzati dalla defezione di autorevoli leader confluiti nella sinistra democratica, e per il 3% dai lettori non collocati che mostrano una crescente attenzione per la nuova formazione politica. Se si votasse oggi, secondo l'indagine dell'Istituto Demopolis, il centro-destra raccoglierebbe nell'isola il 63% dei consensi, con una tenuta di Forza Italia, primo partito vicino al 30% e un'ulteriore crescita rispetto alle politiche dell'UDC, 13% e del Movimento per l'autonomia di Raffaele Lombardo, con l'11%.